E' stato presente come ospite il buon Vittorio Sgarbi a Io e Te, il programma condotto da Pierluigi Diaco. E proprio il critico d'arte avrebbe lanciato una tecciatria al conduttore, poi quel finto compagno che hai puntini puntini. E Diaco avrebbe risposto, io sono molto innamorato di tu di Alessio. Così Sgarbi avrebbe spensato tutti e avrebbe detto, ma è chiaro che sei etero, sei stato pure con una mia amica. E così a quel punto, a quel preciso istante, il buon Pierluigi Diaco, il conduttore, sarebbe scoppiato a ridere e avrebbe detto, questi però sono affari nostri. Insomma, chissà se c'è stato o no questo spiazzamento, anche se molti lo hanno etichettato come tale, ok? Comunque Pierluigi Diaco avrebbe detto, ripeto, amo molto il mio compagno. E Sgarbi gli avrebbe risposto per tutta sincerità, ma sei stato con un'amica mia. Bene, questo sarebbe qua, grazie, il video termina qua. Un saluto in Italia, andiamo a te, andiamo.